Grazie a tutti in questo nuovo video Allora oggi Voglio andare a una festa Allora ragazzi Farò un tutorial Di come mi vestirò Di come farò i miei capelli E di come mi toccherò Per scarpe mi metto E mi metterò E allora Iniziamo da i capelli I capelli Mi faccio le glisse Poi Mi metto questa bella tuta Adesso ve la faccio vedere Questa tuta Con a carallo basso Questa tuta bordeaux Bella Che l'ho comprata Non mi ricordo Vabbè comunque L'ho comprata Allora al Napoli Poi Allora mi metterò Questa farsa Nei capelli Questa farsa nera E bianca Così E poi i capelli Li vedrete dopo Andiamo Ok ragazzi Mi sono vestita E adesso Andiamo a mettere le scarpe Le scarpe Marciamone in cima Andiamo Allora Allora ragazzi Questi Questi bei sandali Che sono Numero 41 Andiamo a mettere E uno Messo Due Ok ragazzi Siamo Nell'imessi E adesso Andiamo a fare I capelli Andiamo Bene ragazzi Capelli fatti Adesso Andiamo a mettere La faccia Farsa messa E adesso Andiamoci A lavare La faccia E poi Ci trucchiamo Andiamo Bene ragazzi Stiamo in bagno Adesso Andiamo a lavare La faccia Allora Io ho questo sapone Grazie Che è molto bello Adesso Andiamo E' bellissimo Bene ragazzi Mi sono lavata La faccia E adesso Andiamoci A truccare Allora Io Dentro La mia possetta Ci sono Tutti I trucchi I miei I miei trucchi Personali Adesso Andiamo A usare Allora Ragazzi Per prima cosa Andiamo A mettere Il Il Fard Questo Ehm Prendiamo Il Pennello Questo qua E andiamo A toccare Poi Andiamo A mettere Il Mascara Che è Della Kiko Che questo E' anche Prova Reggerti L'acqua Cioè Se va L'acqua Sopra Non si toglie Poi Adesso Andiamoci A mettere Il Lo Bello Ecco ragazzi Bene Questo video Spero che vi sia Piaciuto E se vi sia piaciuto Lasciate un bel like Un bel commento E iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao